salve a tutti salve come promesso siamo nuovamente una diretta questa volta il mostro vediamo un po se indovinare dove sono una cosa che in molti dovrebbero fare periodicamente la donazione del sangue eccoci qualche prepariamo simona omonima che procederà mi raccomando andate a donare in ogni momento non trovate la scusa che il lago fa male che avete impressione che svenite ecco qua siamo quasi vai vai assolutamente non sentito niente ho fatto vi saluto alla prossima